oh io faccio andare stavolta ma questo è vero un reddito e io 100 euro tanto pagò su Giovanni eh, dov'è? un fare vedo o cagliacca con il nostro Giovanni cagliacca con il nostro Giovanni cagliacca con il nostro Giovanni un reddito un reddito cagliacca con il reddito un reddito e tu fai meglio non lo so come non lo so ne usate da casa ed anche lui e un saluere o un saluere come posso la saluere hai capito? la bisiotteria io non so se ti faccio i sponsor non, non e veramente poi non so se la bisiotteria tolsi lo sai ti faccio i sponsor posso lavorare perciò non l'ho pensato a vendere ciò non c'è la banca non puoi essere io dov'è che a caccio va con cento di potete vedere con cento euro? io con cento che posso vedere con cento euro? con cento euro? a buttare una ramaronna con quello con un signore a buttare una ramaronna con quello con un signore? io non ci metto con cento euro ma stiamo a toccando parla con un pozzo con un pozzo io al tuo cano sudani la caccia è venuta con un pozzante se ne compra con un pozzante e con cento euro è venuta con un pozzante una raggina andò qua mai? no no una raggina andò qua questo è quello che hai detto siamo dei ghiacchi dai con l'80 ci pare che casca un po' e avrà bisogno di rida